Musica Buonasera, ben chiatats con gnovis. La procura è di Pordenon al termine delle investigazioni preliminari e ha domandato il giudizio immediato per Dimitri Traikov, il cittadino bulgaro di 61 anni, residente a Pordenon, che ai 30 anni di Zenar ha causato un incidente in Avinchievot, la casomuartis dos femminis, Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, erestadis feridis, dos frutti spicciulis, fiiis di queste ultime. Il procurador, Raffaele Tito, alla fazza ve che i profili di colpe si vede individua in te velocità eccessive di Traikov, 180 km soraris, in te vide con tasse alcoliche e in tal non rispietta dei distanci di sicurecce appedda il veicul che lo precedeve. Traikov come si chiate ai arresti domiciliare con braccialette elettroniche. La procura è di contestare anche l'aggravante di essi si dati ai fuiti senza prestar soccorso ai personi feridis. Sono stati fatti perquisizioni anche a Trieste in tal ambito di un'operazione di guardia di finanza in diverse città italiane che hanno portato a un sequestri maxi di ricambi per auto, contraffazze e ai denunzie di 25 persone. Sono più di 400 mil i ricambi e gli accessori con voi di connessi brand sequestrati in tutta Italia tra Carenis, Parepantans, Coprimodors, Coprisedi e Spaccettis Neteveri. Duce cumboldi chiasi automobilistiche sconosciudis. Aierin prodots di une vere e proprie industrie d'alta rock. Indula plotter e stampantis aierin in plene produzione. Sono stati sequestrati più omanco di 20.000 quadri di chiarte per stampis in alte definizioni dovrebbero realizzare altre produzioni illecite. La Polizia di Stato ha celebrato 170 anni di fondazione. A Udin la cerimonia si è davvolta in Salle Aiac al Stato. sottolineato, c'è modo che la azione coordenata dei vari fuorci dall'Ordine evita portata a miglioramenti sensibili e qualità di vita in città. A cerimonia li rappresenta il sindic di Udin, Pietro Fontanini. Voi e le fieste della Polizia di Stato, 170 anni di fondazione, il questore di Udin la voleva scegliere chi è il nostro palazzo e la sala di Ace per fare queste fieste. Sono stati ricordati le operazioni fatte da Aince passate, perché per due Aince la fiesta non si è potuta fare a causa del Covid. Quindi sono tornati, anche se ho scognito prendere la mascherina. Il bilancio è un avore positivo, perché la situazione che riguarda la sicurezza è migliorata, la polizia intervenga e è presente in città. e i risultati sono rivasi. La Inti è un po' più sicura rispetto a Aince in D'Aur, la città è vive con più serenità, e queste sono cose più importanti, perché il sindico ringrazia veramente la Polizia di Stato e tutti i poliziosi che sono presenze chi è Udin che hanno lavorato tante, che stanno lavorando tante per dare sicurezza a tutti i cittadini. La perdita dal carico di qualche miecci pesanti coinvolti in diverse incidenze stradali alle D'Aur ha causato 7.30 di queste mattine codice e rallentamenti sull'autostrada A4 in direzione Vignesie. In maniera fortunata in tanti campi nessuno non è restato ferito, ma i discomuti al traffico si sono slunghiati. Il primo incidentale è succeduto ai sette miecci pesanti tra il gruppo di Puarte e San Stin di Livence. A Esnuf si è verificato dopo un tamponamento in tal tratta a tre corsi sul puin sul tilimento. Dai due autoarticolati coinvolti all'appiarduti il carico di Granz. Un tierce champ si è registrato ai snuf e miecci ai altecci dal casell di Tisane e alla chiapato i miecci pesanti con l'appiardite di Tras di Lenz. I soci di Assemblea di Comunità Linguistica Furlane si sono chiatati dopo di mesi di Audin a Palaccio Belgrado. Zovins e scuole sono due dai temi al centro di attenzione dai sindici, dal territorio, c'è molto che non sclarissi il Presidente dell'Aclif, Marcus Maurmaier. Voi dopo di mesi di l'Aclif si chiate a Udin. Diceveso di Tabaglia? Ho sicuramente pensato che ho fatto l'anno passato. Su tutto mi piace pensare i nuovi, se ringrazio i telefoni per questa attenzione, ma dopo ho iniziato a mettere le basi per il futuro. I frussi. C'è ruolo hanno i frussi? Per i frussi vengono l'ambizione di coinvolgere tra i consegni comunali dei frussi che hanno dato i suggerimenti ai granzi per come valorizzare la lingua furlana. La bandiera è dal Friul? La bandiera è dal Friul. Non è una legge che ne permette di mettere fuori dai municipi il 3 avril. Come comuni, pensando di adottare un regolamento consigliare che ne permette di mettere fuori le bandiere senza in altri giornali, se vince sia di febbraio, il 6 di giugno o il 9 di ottobre in occasione della commemorazione del Vajont. La scuola? Per quanto riguarda la scuola, è paradossale. I comuni dal Veneto stanno mandando di essi tutelati come minoranze linguistiche furlane. perché hanno capito che tramite una legge dal Stato possono ridurre il numero di studenti necessari per poter avere una classe da 15 a 10. E allora hanno vinto a fare la stessa roba che hanno altri in Friul perché hanno vinto anche i comuni che stanno soffrendo rispetto al fatto che non si manca il fruss e si rischia di perdere qualche scuola tra i comuni più piccoli. Sui litorali di Lignan e Grau, in qualche periodo centrale della stagione estiva che è esportata, si registra già il soldato in prenotazione dai ombre ons. Lo ha detto l'assessore regionale a queste attività produttive e turismi, Sergio Bini, intervenendo in tal bancù dal Friul Vinesi e Giulie preparato alle borse internazionali dal turismo a Milano. Non si è la prima regione in Italia che di fatto è un recupero quasi total appena dal 2019. Cagliere è già stata un'anno dei record per cercare il turismo. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente al Friul Vinesi e Giulie, vuole in visita a Ebit di Milano. Le sprenotazioni sparpasche in regione hanno un'emedia di due dis di permanenza e il mar. Al sommet calcedi pluisiel di Peddamont. Second Paola Schneider, presidente di Federalberghi, la tendenza prenotà all'ultimo momento al poi svariare i scenari anche per c'è che di là di Pasqua si prospettino altri due fin di settemane di Puin, cui 25 di avril e al primo di mai. Al momento, per sferis pascals, le sprenotazioni si assestino al 70% al mar, intanto che in monte il flus al sarà palplui giornalire. Intanto, i sorelli e gli temperaturis avviertanis hanno sburtato l'isagest a preparare dei sarei forniti con ombre l'ons all'ignanza in te fin di settemane di Pasche. Il Fef al torne al teatri Zouan di Udin dopo due aines di incertecis d'età di pandemie che in tallor corse organizzador sasson sta scostrez a tornarsi a inventà la formule dal festival. Il Fef edizione vincchiequatri al sarà anche un'e celebrazione collettiva dal cine asiatica. Mettidoglie il Teatri Nouve cui si è mille e dusinte puest al sarà il visionario intanto che in città si davvalzeranno diversi iniziativi collaterali. Scoltini il direttore artistico Thomas Bertacche. Fare il film festival al torne a Udin un'edizione importante dopo due aines che non si poteva festeggiare a pleno. Sì, finalmente torniamo al Teatri dal Teatri Nouve finalmente torniamo nella dimensione che avevano prima del Covid un gru' di ospiti che arrivano dall'Asia praticamente da Pardotto dopo il cinema non arrivano ad arrivare perché hanno fatto tre settimane di quarantenne quando tornano da Ur quindi non arrivano ad arrivare però vengono ospiti dal Japone o dalla Corea del Sud dalle Filippine da Hong Kong da Manila insomma da Time Questa vengono Time Films e soprattutto non fanno un cinema ma vengono a fare anche un concert una mostra di illustrazioni si fume si occuperemo anche di cibo porteremo anche il vento giapponese che è una specie di pranzo al sacco come che fanno in Giappone che ti chiedono un po' di riso un po' di sottacetti un po' di chiaro un po' di peso un po' di tutto e sì sarà un bel tempo di passare insieme all'edut paru sgnozzi torninga vio di domandi sere buone serade mandi un po' di sottacetti